Juventus in emergenza, la vigilia del match di domani sera al Maradona che comincerà alle 18, analizzeremo la vigilia del match tra poco, Spalletti in conferenza. Buon pomeriggio gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Martesport Live, voce ai protagonisti dopo un'ora di voce di popolo, Gianluca Gifuni al microfono, c'è Mario Palligiano in regia con Moesino alle 14. Ha parlato Allegri che ha informato sulla situazione della Juventus, 14 giocatori disponibili più 3 ragazzi delle giovanili, quindi una squadra davvero risicata per quanto riguarda le alternative, ma Allegri ha detto chiaramente ho la squadra ideale per affrontare il Napoli. Sono out tutti i sudamericani compreso Quadrado, out anche Chiesa, la Juve dovrebbe giocare con Cesni in porta, Desciglio, Bonucci, Chiellini e Luca Pellegrini in difesa, McKennie, Locatelli e Rabiot a metà campo, Bernardeschi, Morata e Kulusevski in attacco per il 4-3-3 che proporrà Allegri al Maradona domani sera. Un po' di problemi anche per il Napoli, Ozyman tornerà unitamente a Rachmani ed Elmas solo nel pomeriggio per la rifinitura, l'ultima in vista della partita, perché i tre giocatori sono a Roma, all'ambasciata britannica, per ottenere una esenzione speciale, per poter partecipare poi, essendo stati in paesi che sono in lista rossa per il Regno Unito, appunto per poter partecipare tra sei giorni all'Ester-Napoli, la partita che si giocherà come prima dell'Europa League della nuova stagione. Per cui Ozyman arriverà nel pomeriggio insieme ad Elmas e Rachmani di ritorno da Roma dopo gli impegni con la nazionale, sarà a disposizione di Spalletti per l'ultima rifinitura, mentre Ospina arriverà in serata e dunque non avrà neanche il tempo di allenarsi, andrà direttamente in porta tra i pali domani con la Juventus. L'unica buona notizia in casa Napoli è che Zielinski ieri si è allenato con il gruppo, il polacco sta bene, domani dovrebbe essere della partita sotto punta, quindi alle spalle di Ozyman. 339-666-9990 per i vostri messaggi Whatsapp, dalle 13.30 saremo in collegamento con Gianni Di Marzio per il filo diretto e adesso presentiamo subito Peppe Iannicelli. Peppe buonasera, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Gif e a tutti i nostri radio e telespettatori. Beh insomma Napoli-Juve chi si aspettava un'emergenza da entrambe le parti perché tutti e due gli allenatori hanno grandi difficoltà. E' la folia dei calendari, la folia dei calendari compressi che costringono due grandi squadre, due grandi club, rivali storiche dalle quali si attende sempre un grande spettacolo agonistico quando scendono in campo a scendere in campo in modo rimaneggiato assolutamente emergenziale. Io credo che chi gestisce il calcio internazionale debba riflettere profondamente su queste situazioni che sono allucinanti, che offendono il pubblico e peraltro mettono anche a rischio gravemente la salute degli atleti perché questo ambirimieri certamente non va bene alla salute fisica e mentale degli atleti. Dall'altro lato una icona del calcio mondiale, della Juventus e delle partite tra Napoli e Juventus. Ha giocato in porta e ne ha giocato tantissime nella porta bianconera. Stefano Tacconi, Tacconi buongiorno. Buongiorno. Dall'altro lato c'è Peppe Iannicelli che le faccio salutare. Buongiorno. Tacconi, le chiedo subito, prima di parlare dell'emergenza tra Juve e Napoli, un portiere come Ospina che sarà costretto ad andare tra i pali della partita difendendo i pali del Napoli domani sera, tornando stasera dagli impegni con le nazionali, quindi senza allenarsi, senza preparare la partita, quali sono le difficoltà in questo caso? Buongiorno, io meno mi allenavo e meglio andavo. tanto il portiere non deve correre, non è che fatica più di tanto. Ecco, però qualche indicazione magari il tecnico la darà sull'attacco della Juve, su come impostare magari certi meccanismi di difesa, non lo so. Guarda, io stavo talmente fuori dal gioco quando c'era la tattica dell'allenatore che non me ne fregavano proprio niente. Perché tu non dovevi giocare con i piedi come si gioca oggi. Sì, ho cominciato un po' alla fine, però il calcio di oggi è molto diverso, il portiere si deve solo concentrare per fare i suoi senza pensare a tante cose. È un po' sottotono questo Napoli-Juve, con la Juve che ha un solo punto in classifica e penultima in gradatore in Serie A, il Napoli ne ha sei ma ha le sue difficoltà. Insomma, è una partita sottotono rispetto ai grandi match del passato, almeno alla vigilia. Sottotono non direi, anzi. Io voglio stare anche attento, anche se Allegri ci è abituato a queste partenze, che ha lasciato andare avanti, se non me ne ricordo male, per 12-15 o 16 punti di vantaggio in un campionato che poi l'ha vinto. Non bisogna mai darsi per persi e cercare di migliorarsi. Poi, insomma, il campionato andrà avanti e vedremo dopo Natale quello che succederà. Fernando scrive, complimenti a Tacconi per aver incassato il calcio di punizione più bello della storia del calcio. E qui, insomma, oltre alle prodezze, diciamo così, attive, si decantano, si decantano, si celebrano anche le prodezze passive, quella di Tacconi. Peppe, che ha avuto il merito di incassare un gol incredibile, quello di Maradona, che tutti ricordano. Devo dire che è in assoluto il mio gol preferito e quindi voglio dire, Tacconi poi l'ha commentato nel corso degli anni, che è un grande tipo di sportività, ma a noi volevo fare una domanda sulla quale noi spesso dibattiamo, Tacconi. Io sono convinto che un club come in Napoli nel calcio moderno debba avere due sportieri importanti, grandi sportieri, come lo Spira e meretti che si contendono il costo. Nel senso che, secondo me, per il portiere vale il discorso che vale per gli altri ruoli, chi è in più in forma gioca. Lei come la vede? Perché molti invece sostendono che il ruolo del portiere è atipico e dovrebbe esserci una chiara giratia, a prescindere dal rendimento e dalla quotizia. Allora, con me non giocava nessuno. Giocava solo Tacconi? Giocavo solo io, anche le amichevoli, contro la promozione, ma il portiere una volta che più giocava più andava in forma. È normale che oggi il calcio è diverso, ci sono tre o quattro portieri che non vanno sottovalutati per quanto riguarda lo spogliatoio. Deve stare attento, sono troppi giocatori che sono anche scontenti, ma l'allenatore deve essere bravo in quel senso a fare lo spogliatoio, a cercare di non rovinarlo. Ma chi le piace di più, considerato tutto, Spina o Meret? Ma io punto sempre sui giovani. Meret è un buon portiere, è giusto che abbia la possibilità di emergere, di giocare e di farsi vedere. E' un buon portiere, su quel punto l'allenatore ha le mani buone. E secondo lei perché Cesni, che era un ottimo portiere fino a un po' di tempo fa, ha avuto una sorta di regressione negli ultimi tempi? Perché il portiere purtroppo psicologicamente va a seconda della squadra. Non c'è verso, sicuramente non puoi giocare da solo, è normale che se la squadra non gira, non gira neanche il portiere. Ma chi è favorito domani sera al Maradona tra Napoli e Juve, con la Juve che ha tutti i sudamericani out, Chiesa out, Quadrado out? E' imprevedibile, è una partita che non si può dire chi può vincere, è normale che può essere portaggiato al Napoli perché gioca in casa. E poi solo quello. E gli spettatori ci saranno, anche se poco più di 25 mila, però ci saranno. Ricordiamo che Stefano Tacconi è stato uno di quelli che è venuto a omaggiare la memoria di Diego Armando Maradona, con cui aveva un rapporto, ai tempi in cui giocavano i due con un bel quadro, vero Stefano, che hai fatto realizzare, che hai depositato ai quartieri spagnoli. Ma guarda, con Diego è normale che abbiamo fatto tante battaglie, gli hanno detto anche troppe. Ma ti ricordi qualcosa che gli hai detto, proprio di clamoroso? Quando, non so, disse delle cose, in particolare io gli ho risposto tramite i giornali, che non si deve sentire Dio, insomma, che Dio ce n'è solo uno, insomma. Ecco. E lì mi sono beccato un po' di scornacchiato, quando sono arrivato, insomma. Era anche un modo di caricarmi, anche. Con i napoletani, Peppe Tacconi, c'è stato un rapporto di amore e odio, possiamo definirlo così. Perché io dovevo già venire a Napoli a giocare per due volte. La prima è dopo Ravellino, quando ha smesso Castellini, che poi invece mi ha comprato la Juve. E poi? E poi l'altra, quando ero fuori in quel periodo della Juve, che Moggi mi chiamava spesso per tornare a... Per un po' non ci sono cascato. E perché non ho accettato poi? Non si è concretizzato? Poi Moggi mi ha offerto anche il doppio di quello che prendevo alla Juve. E allora? Io sono testone, sono rimasto e ho giocato, ho continuato a giocare e ho vinto. Peppe? Ma io credo che il rapporto sia stato un rapporto vivace, perché Tacconi è uno vero. Cioè è uno che poi anche durante la carriera non ne ha mai mandato a dire, ha sempre rotto gli schemi. E questo naturalmente poi a volte ti porta in alcune situazioni a essere magari in viso, ma credo che lui abbia sempre avuto il rispetto degli avversari. In generale, come vede questo campionato Tacconi? Io ritengo che il Napoli possa dire la sua addirittura per lo scudetto. Dopo che Inter e Juve hanno perso pezzi da 90 come Cristiano Ronaldo e Lukaku e il Napoli, tutto sommato, non ha ceduto nessun vizio. Guarda, io vedo in line di un grande allenatore. È riuscito in breve tempo a far dimenticare un po' le amarezze per quanto riguarda i giocatori che sono andati via. Però io credo che, come dice Allegri, i calciotri vanno, le società rimangono. Non dobbiamo stare lì a diventare matti per un giocatore che se ne va, anche perché ormai l'attaccamento della squadra non c'è più, non c'è più una maglia, non c'è più. Incordiamoci in questo calcio di oggi e speriamo che ci facciano divertire. Grazie a Stefano Tacconi, in bocca al lupo e a presto. Grazie. Ciao. Grazie a Stefano Tacconi e grazie a Peppe Annicelli che domani sarà puntuale come ogni sabato qui su Radio Marte con Martesport Show dalle 12 alle 14 in vostra compagnia con tante sorprese e tante curiosità. E ovviamente i collegamenti a qualche ora da Napoli-Juventus. Quindi, Peppe, domani grande giornata. Campale, direi, a partire da mezzogiorno. Sì, sostanzialmente, perché vi faremo anche compagnia mentre andrete allo stadio, perché il consiglio di portarsi per tempo nella zona di fuorigrotta per evitare poi di trovarsi incolonnati tra i controlli Green Pass e i controlli ai tornelli è sempre utile, quindi accendete la radio, mettete in macchina, prendete la metro, arrivate con calma a fuorigrotta, entrate con tutta serenità, sempre sintonizzati con Radio Marte, che diciamo tutto e anche di più. Grazie, grazie a domani a Peppe Iannicelli. Voliamo in pubblicità tra poco le ultimissime da Castelvolturno con Spalletti che parlerà tra poco e poi ci sarà l'allenamento del pomeriggio, il primo Diosi Man dopo l'impegno con le nazionali. Rieccoci in studio in diretta con Marte Sport Live. Voce ai protagonisti, Gianluca Gifuni in vostra compagnia, c'è Mario Palligiano in regia, scaricate l'app di Radio Marte sul vostro telefonino perché questo vi consentirà di ascoltare tutta la nostra programmazione secondo per secondo in ogni luogo del mondo. Quindi ovunque voi siate, con l'app di Radio Marte sarete sempre al fianco di Radio Marte e Radio Marte sarà sempre al vostro fianco. Nel frattempo Allegri, tra le altre cose, ha anche detto chiaramente che secondo lui il Napoli è una delle candidate a vincere, lo scudetto. Siete d'accordo con Allegri? Io credo che il buon Enrico Fedele non sia d'accordo. Così come tanti che ci scrivevano per esempio ieri sera che sono un po' scettici sugli obiettivi della squadra quest'anno. Pietro Lomonaco, grande dirigente navigato, è con noi al telefono. Buon pomeriggio Lomonaco. Buon pomeriggio a tutti voi. Allegri dice che il Napoli è una delle candidate a vincere lo scudetto. È d'accordo lei? Diciamo che una vera pretendente alla vittoria finale che si stacca sulle alte, non c'è. Forse lì c'è un più rispetto alle altre, no? Certo. Di crediti. Quindi diciamo che in quel equilibrio al vertice è chiaro che il Napoli si gioca la sua carta al pari dell'Inter, della Juve, della Roma. Della Atalanta anche? Dico che ci vuole anche l'abitudine a stare lassù costantemente nel tempo. E l'Atalanta negli ultimi anni ha fatto benissimo, ha fatto campionati di alta classifica. Quindi non mi meraviglierebbe se alla fine dovessimo trovarla a concorrere con le altre. Senta, quest'amico Gio scrive se non battiamo la Juve che non ha quadrato, che non ha chiesa, che non ha dibala, significa che potremmo al massimo combattere per il sesto posto. Ritiene che la partita di domani con questa Juve è in grande emergenza e con il Napoli in emergenza solo per il fatto che tutti i nazionali torneranno alla spicciolata nelle prossime ore. Da Ospina questa sera che non si allenerà, Ozyman che dopo aver avuto, diciamo così, l'abbono nella sentenza della Corte d'Appello federale sarà in campo ma tornerà oggi pomeriggio solo per la rifinitura ultima prima della partita. Quindi da entrambe le parti l'emergenza, ma la Juve deve fare a meno di quadrato Chiesa e Dybala che sono tre giocatori strategici per lo scacchiere di Allegri. Ma sicuramente non approfittare di questa situazione di emergenza della Juve sarebbe delittuoso, sarebbe un peccato. Però io ci andrei piano con i disporsi catastrofici. Siamo appena all'inizio del campionato, di conseguenza il tempo farà migliorare le squadre, il tempo creerà dei meccanismi tali che le squadre si proporranno automaticamente al vertice. Quindi diciamo che è una partita che potrebbe dare un'ulteriore spinta al Napoli in questo momento iniziale di formazione, però sicuramente di decisivo non c'è nulla. Le chiedo prima di salutarla di Anghissà, questo giocatore che ha disputato partite in passato nell'Olympique Marsiglia, nel Villareal e poi nel Fulham, giocatore che somiglia un po' a Bacaiocò ma è più dinamico e ai piedi migliori. Dovrebbe giocare dal primo minuto domani, poi tra pochissimo, tra qualche secondo, avremo le notizie da Castelvolturno con Pasqualitina che ci dirà qualcosa in più. Però Anghissà è un acquisto che può risolvere i problemi di spalletti a centrocampo, secondo lei? È un acquisto che evidentemente non ho mai avuto una grandissima opinione. Io ho un buon giocatore ma nulla più, tra l'altro anche con problemi dinamici. Quali sono questi problemi dinamici, Lomona? È lento. Ebbè, ma è meno lento di Bacaiocò però? Io parlavo di Bacaiocò. Ah, di Bacaiocò. Io parlavo di Bacaiocò. Ah, ok. Io vi stavo dicendo che non ho mai avuto una grandissima opinione, no? Certo. Di Bacaiocò. E quindi, quello che ha fatto il Napoli è un acquisto che, secondo me, fa dirittare il reparto è più consono alla crescita del reparto rispetto a Bacaiocò. Va bene. Allora, con questa ventata di ottimismo noi salutiamo Pietro Lomonaco. Grazie, direttore, per essere stato con noi. Grazie a Pietro Lomonaco. Le ultime da Castelvolturno a un'ora dalla conferenza stampa di Luciano Spalletti al Konami Center. Pasquale Tina, buon pomeriggio, Pasquale. Ciao Gianluca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, da che cosa vogliamo cominciare? Innanzitutto da Rachmani, Elmas e Osimen che sono a Roma per ottenere dall'ambasciata britannica, come dicevamo anche ieri sera, questa esenzione speciale per poter partecipare all'Ester-Napoli, partita di Europa League d'esordio che si giocherà all'Ester giovedì prossimo nel Regno Unito. Sì, Gianluca, in realtà, stanno tornando, hanno esplicato delle pratiche per ottenere il visto. Poi, è l'UEF, insomma, che deve garantire non solo al Napoli ma a tutte le squadre che non ci sia la quarantena, l'obbligo di quarantena. Non è un problema non solo del Napoli, forse lo ripeto sempre, ma è un problema di tutte le squadre che poi vanno in Inghilterra a giocare le coppe europee, quindi è fondamentale come dire all'UEF a garantire per tutte le squadre che è una situazione in cui sta lavorando sostanto il Napoli. Per quanto riguarda Osimen e Elmas, quindi oggi faranno più tardi, faranno il primo allenamento, il allenamento di rifinitura, che comincerà intorno alle 15.30-16? Eh sì, Gianluca, perché la conferenza è alle 14.30, un umeriggio c'è, c'è un allenamento di rifinitura, vedremo, insomma, chi gioca poi alle spalle di Osimen, che mi sembra il vero dubbio di formazione. Se è Elmas, vediamo anche Zilischi, che ieri ha lavorato in gruppo, magari lo chiediamo proprio a Spalletti su che condizioni è, se può fare uno spettore di partita. C'è un As che è stato provato nei giorni scorsi, credo sia, possa essere più una soluzione magari in corso d'opera per, che dal primo minuto io credo insomma che Spalletti metta un altro centrocampista in modo che possa garantirti anche un po' di lavoro di copertura, quindi provendo più per Elmas che per un As al primo minuto, ripeto, vediamo... Quindi, ma più Elmas che Zilischi? O Zilischi chi ha la possibilità di partire? Questo lo capiamo oggi perché Zilischi di fatto non ha giocato per il partito con l'Aponia però ieri è rientrato e si è allenato a fare la situazione del gruppo quindi se sta bene potrebbe anche essere lui la sorpresa che poi sarebbe un ritorno molto importante perché sappiamo quanto sia come dire prezioso Zilischi anche in quella posizione che l'anno scorso ha occupato molto bene credo che ha fatto la sua migliore stagione nel Napoli e Spalletti piace in quella posizione quindi è un'altra ipotesi da non sottovalutare per il resto credo giochino Politano a destra per completare l'attacco centrocampo Fabia neanche sa in difesa con Ospina fra i pali di Lorenzo e Mario Rusigli esterni a sicuri quali coppia centrale a proposito di dicevo a proposito di Ospina tornerà in serata quindi non avrà il tempo di allenarsi e andrà direttamente a difendere i pali del Napoli domani sera vabbè si è allenato ieri vincendo 3 a 1 col C ha fatto tre partite quindi mi sembra insomma che abbia giocato in questo periodo secondo me ha ritrovato anche un po' di continuità visto che nel Napoli stava Giovanni Meret prima dell'infortunio vedo che per un portiere puoi ritrovare continuità e giocare che è sempre importante e si arriva farà il tampone domani si aggrega si aggrega al gruppo alternative non ce ne sono perché come ti dicevo appunto Meret è infortunato quindi toccherà a lui in questo periodo fare l'istraordinario difendere la porta del Napoli questo poi è fondamentale che ci sia questo accordo con dell'uefa con il governo inglese per le competizioni europee altrimenti Ospina avrebbe problemi giovedì e ricordiamo il Napoli in lista come terzo portiere l'Italia che non Marsella che dice il terzo del campionato Certo Spalletti dovrebbe parlare oggi anche forse qualcuno glielo chiederà del 5 a 1 subito in amichevole col Benevento insomma cercherà anche di spiegare che cose che non è andato interpretando le sue parole del passato non credo che gli sia piaciuto affatto perché come dire che indossare quella maglietta quella maglia della maglia del Napoli contava anche in allenamento con maggior ragione in un amichevole era un allenamento credo che perdere 5 a 1 in casa non faccia mai piacere a nessuno per le proporzioni per il modo in cui hai giocato quella partita perché probabilmente qualche giocatore che avrebbe dovuto sfruttare la gara per mettersi in mostra non l'ho affatto Petania per esempio è difficile salvare qualcuno di quella partita Boziano anche sì effettivamente anche Fabian non era al massimo parliamo di titolari lui sinceramente non dico nulla perché ha giocato in un ruolo non suo quindi è difficile come dire poter giudicare la prestazione in un ruolo che non è il tuo ma io parlo anche di alternative c'è anche Malco che sta deluso contro il benevento doveva mettersi in mostra perché è comunque l'alternativa di Lorenzo sulla fascia destra e avrebbe magari potuto interpretare la gara diversamente era in ritardo Juan Gresos mi è sembrato insomma come dire un giocatore che deve trovare la migliore condizione adesso non ce l'ha ancora quindi sono tutti elementi di cui si dovrà tener conto è un monito per questi giocatori di migliorare perché poi Gianluca ci sarà bisogno di loro di Lorenzo non le giocherà tutte le partite pur essendo un calciatore insomma di grande sostanza fisica però prima o poi rifiaterà anche lui quindi ci sarà bisogno di Malco Petagna credo sia un discorso di un giocatore che di fatto ha cominciato ad allenarsi con il gruppo un mese fa a Castel di Sangro perché ha cominciato intorno al 10 11 agosto quindi non vale che un giocatore così forte specificamente deve ritrovare la migliore condizione e credo che quei 90 minuti gli abbiano fatto soltanto bene è chiaro insomma che anche lui poteva fare meglio va bene Pasquale noi ci fermiamo qui buona conferenza stampa di Spalletti di cui vi daremo i dettagli ovviamente in serata con il commento ancora di Pasquale Tina a partire dalle 19 in Marte Sport Live tiro al bersaglio buon lavoro Pasquale buon pomeriggio ciao Gianluca ciao grazie siamo in chiusura di blocco tra poco arriva Gianni Di Marzio con le sue trappole risponderà alle vostre domande quindi cominciate a chiamare allo 081 636363 per intervenire in diretta con Gianni Di Marzio chi volesse invece inviarci un messaggio Whatsapp può farlo al 339 666 69990 Marte Sport Live Napoli Marte Sport Live Rieccoci in diretta Gianluca Gifuni per Marte Sport Live voce ai protagonisti con voi sino alle 14 Mario Palligiano in regia tra pochissimo Gianni Di Marzio insieme a noi con le sue trappole potete intervenire allo 081 63636363 per intervenire in diretta Lello da quarto invia il suo solito devo dire consueto messaggio pessimistico perché scrive 0 a 3 o 0 a 4 in difesa la Juve vincerà tra uno troppa differenza di qualità ed il Napoli ha solo tre centrocampisti disponibili e cinque difensori di cui quattro in campo e uno in panchina insomma per Lello da quarto il centrocampo e la difesa vede la Juve superiore nonostante le assenze in casa Allegri la Juve giocherà con Cesni in porta Desciglio Bonucci Chiellini e Pellegrini Luca Pellegrini in difesa McKennie Locatelli e Rabiot giocheranno a metà campo Bernardeschi e Kuluseschi ai lati di Morata per un 4-3-3 il Napoli con Ospina in porta Di Lorenzo Manola Sculibali e Mario Rui in difesa Fabian Ruiz Anghissà ed Elma Sozielischi vedremo a sostegno della mediana ma anche della punta Politano a destra insieme a sinistra Osimen in attacco Gianni Di Marzio è prontissimo i trappolari il filo diretto con Gianni Di Marzio Gianni buongiorno eccomi qua come stai tutto bene informissimo io voglio capire Spalletti quali trappole può utilizzare per fermare questa Juve ma è già un suicidio quello di Allegri che fa giocare a Pellegrini da sinistra e non ha quadrato non ha né quadrato né a Alexandro quindi è in emergenza ma quello non lo so non lo so chi ha chi non ha ma Pellegrini è un ragazzino che già a 15 anni guadagnava un milione di euro con la Roma perché se no il papà lo portava via e non era ancora firmato quindi è un romano che già in testa è giocatore ma non lo è stato fino a questo tecnicamente non è male è un punto che il sinistro spinge discretamente ma non è l'uomo che può fermare a Politano il Napoli è quella trappola e quella è là su Politano e poi Centigno all'altra parte che dovrebbe marcare di Sciglia ma i sinistri incominciano e va dentro al campo quindi il Napoli potrebbe essere avvantaggiato con Politano da quel lato certo non solo perché tu devi considerare che Osimane andrà a finire nella morsa di due giocatori di grosso spessore anche tutto rispetto fisico che cercheranno di metterlo in fuori gioco perché Osimane attacca gli spazi quindi gioca molto sul lungo e questa è la verità poi io per quello che mi riguarda mi sono già espresso perché lo conosco non come dei tuoi colleghi napoletani dei giornali sportivi che ha su Manguistallo fanno passare un centrocampista difensivo ma quale difensivo questo spinge vai e viene avanti dribla salta l'uomo si butta dentro è un po' come Allan è un po' come Allan Gianni ma Allan era Allan era più un interditore hai capito un interditore un cursore questo invece stranamente Allan era brasiliano è brasiliano quindi c'era anche c'era anche piede buono però più o meno è come Allan fisicamente è strutturato meglio è anche più alto e poi è un po' più spregiudicato nel dribblare anzi a certe volte porta troppo la palla però è un buon giocatore questa ha fatto 40 partiti con il Villareale è stata pagata 30 minuti di sterrine da Fulham anzi stranamente Fulham le prime partite non le ha fatte la ha portate in banchina e non ho capito perché lo ha dato via questa è la verità poi tra l'altro nazionale camerunense ha giocato anche in Francia no no è un giocatore vale l'età giusta è maturo a me piace certo non è il giocatore che tatticamente serviva al Napoli perché tra lui e Fabio Rius nel 4-2-3-1 nessuno dei due rimane a zona hai capito fanno tutti e due avanti quindi non vorrei che mezza campo in quella zona lì davanti a Coulibba lì e a Manovast Di Bala c'è un trequartissimo non c'è Di Bala non c'è non c'è neanche lui giocano Bernardeschi Morata e Kulusevski in attacco Bernardeschi guarda per me se vuoi te lo dico perché poi c'erano tanti napoletani che ci saranno ad ascoltare e poi domani per l'ennesima volta si renderanno conto anche di si ricorderanno pure qualche parola mia spero spero di sì Bernardeschi potenzialmente è un grande giocatore come corso coordinazione tecnica però non è non è completo sul piano della maturità della sua personalità una volta hai capito Biondo un'altra volta è troppo superficiale i giocatori che cambiano idea non mi danno quella serietà come ti devo dire personale che dici io qua sono giocatori di calcio devo fare vabbè Gianni ma lascia perdere i giocatori che cambiavano il colore dei capelli quando eri allenatore non ti piacevano l'ho capito sono all'antico sono all'antico lasciami stare per favore per me sono in stabilità mentale va bene Salvatore al telefono buongiorno buongiorno e complimenti specialmente a Di Marce perché io non posso fare a me di chiamare quando si sta a Di Marce perché lui e Giordano non è uno che persone che ci avete come opinionista a Radio Marte mi dispiace ma è così e volevo chiedere già mi avete risposto perché mi avete anticipato perché volevo chiedere a grande Gianni Di Marce della sua navigata esperienza nella sua cazzimma di napoletano come avrebbe schierato il Napoli contro un aiuto che tutti dicono che stanno in difficoltà ma io che ho 78 anni mi ho subito di anni a riti da quella società quindi volevo chiedere questo ma voi già mi avete risposto faccio una domanda trappoma al grande Di Marce va bene grazie Salvatore domanda trappola Gianni devo darti un'altra pillola però per farti analizzare bene il discorso che farai per rispondere a Salvatore potrebbe anche non giocare Pellegrini ce lo suggerisce Gaetano poi tra poco ci collegheremo con Torino per saperne di più potrebbe fare anche difesa a tre con esterni larghi Bernardeschi a destra e Desciglio a sinistra no no c'è notizia di mano fresca fresca gioca lui gioca Luca Pellegrini allora come abbiamo detto non giocano a tre non giocano a tre gioca a qua Desciglio a destra Desciglio a destra e Pellegrini a sinistra e non Desciglio a destra alto e Bernardeschi a sinistra alto con la difesa a tre no 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 noi dobbiamo stare attenti invece alla nostra sinistra con Mario Lui perché là giocherà Colucesco e Colucesco fa nero nero specialmente nella fase offensiva perché Mario Lui è uno che spinge ma la fase difensiva purtroppo non sta nelle sue corde nella sua mentalità hai capito e io ho paura là io ho paura là ti dico proprio sinceramente va bene come schiererebbe come schiereresti Gianni il Napoli ti chiedeva Salvatore brevemente no no mi metto in difficoltà per fermare la Juve no ma per educazione con fronte di Spalletto se tu mi fai una domanda giocati e cerca io ti dicono sarebbe meglio questo e meglio quella ma se tu mi fai la formazione io sono Spalletto io mi incazzo pure e dico Di Marzio va bene e allora quest'amico dice il grande Giorginio si è fatto biondissimo adesso cosa dice Di Marzio anche lui è instabile no no lì ha fatto una scaramazia è diversi io divento campione è uno per gli faccio i capelli va bene allora andiamo al telefono Gennaro buongiorno 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 al posto gradito ospite nulla volevo dire a Gianni noi il Napoli è la prima cosa un'unica certezza che è l'allenatura però sul mancato arrivo degli esterni dopo tanti anni Gianni dell'esterno io dico degli esterni di Lorenzo l'abbiamo ritrovato perché giustamente ha fatto quello che sta facendo ma non era una certezza ma io dico che mancano gli esterni sia sinistro che destra ora siamo più coperti c'è Di Lorenzo che è entrato nel diciamo nell'ambiente e si sta vedendo che è un bracciatore però per me è il grande attaccante vi saluto per l'ascolto per radio bene aspetta un momento ti interrompo anche se Di Lorenzo ogni tanto si fa spuggire l'avversario alle spalle hai capito quando arrivano i cross dal lato opposto e li fanno sempre cosa però è migliorato moltissimo questo è fuori discussione ma dall'altra parte Spalletti in allenamento contro il Benevento ha provato la missa Malquetti secondo tempo la parte giocattazione di missa per vedere se eventualmente poteva trovare una soluzione poi ha giocato con Mario Rui in mezzo al campo improponibile e imbarazzante Juan Jesus che non si può presentare in campo in quella maniera per me è lui che però non lo bosca deve calare 10 kg io conosco da 15 anni da quando gioca nell'ander 17 brasiliano che l'ho visto in Brasile e l'ho visto agli eventi sudamericani poi non può giocare a testino sinistro perché non ha spinta non ha già gambe da farci lui è un ex stopper è un centrale difensivo ma deve stare a posto fisicamente non come dolori fisici come che io ho letto da qualche parte che ha avuto degli infortuni a Roma proprio deve stare a posto deve calare di peso non l'ha visto contro i Beneventi e poi i giovani del Napoli a mio avviso in questo momento nessuno di questi è pronto un terzo portiere tu Napoli deve avere un terzo portiere sicuro se vuoi lottare per andare in Champions se vuoi lottare anche per lo scudetto non puoi rischiare come adesso che ti capita i portieri i poverini o i spirali dal Sud America il ragazzo si è fatto male disgraziatamente hai capito tu un terzo portiere sicuro devi tenere un po' e purtroppo adesso non si può fare Gianni nel senso ho qualche svincolato devi prendere uno svincolato Mirante per esempio andiamo da Enzo al telefono buongiorno buongiorno Enzo buongiorno Enzo buongiorno buongiorno volevo va bene innanzitutto secondo me la partita sarà dura purtroppo siamo abituati i signori sono abituati a fare queste cose giocare le partite nelle difficoltà si esaltano però non dobbiamo far passare il messaggio che Napoli è favorito perché sto ascoltando un po' attraverso le radio qui di Napoli anche le altre emittenti è come se Napoli avesse già i tre punti in casca io penso che sia una cosa sbagliatissima se partiamo con questo presupposto secondo me ne usciremo con le nostre salute uno poi volevo dire una cosa a Messiasi Massimo ma secondo lei quest'anno siamo più come libidi l'anno scorso nonostante magari acquisto del terzino sinistro grazie Enzo è tutto chiaro grazie ma siamo più competitivi perché Usimene è migliorato molto è rimasto 3-4 mesi lì quando si è fatto male alle spalle il gattuso lo fece andare in Nigeria è migliorato molto può ancora migliorare di più ma oggi è diventata una certezza anche sotto l'aspetto psicologico e sotto l'aspetto ambientale lui sente il pubblico il pubblico lo vede bene quindi il giocatore dà di più mi risulta anche Spalletti gli fa fare finalmente come avevamo suggerito senza presunzione anche noi dei lavori individuali come si deve muovere quando il compagno ha la palla come si deve staccare l'uomo da dosso e come si deve presentare in area di rigore quando deve attaccare o il primo palo o il secondo palo staccandosi l'avversario da dosso mi risulta che queste cose le stanno facendo le ha fatte anche il ritiro il giocatore migliorerà ancora di più se è un uomo che ha 15 volte nelle gambe ne fa la 20 25 bene Gianni Francesco sai che scrive buongiorno per scaramanzia Di Marzio se vinciamo lo scudetto Di Marzio deve farsi biondo sei pronto a farti biondo Gianni un po' come Giorginio ma non mi faccio anche rosso mi faccio Di Marzio o biondo sarebbe bellissimo mi faccio rosso di vergogna ma ci stanno le squadre che tiene il maglietto rosso Gianni ma quale rosso tu devi farti i capelli come Giorginio biondo oppure un po' come Bernardeschi questa è la verità ci scrive Francesco io ho già mi risorpegnato a zero per l'estate figlio aspettiamo che crescano bene Gigi Soriani aspetta anche lui Di Marzio Biondo se il Napoli vince lo scudetto poi ci vediamo qui anche in televisione Gianni ci fermiamo un minuto di pubblicità e poi torniamo con lo 081636363 filo diretto con le trappole di Gianni Di Marzio Marte Spotlight Napoli Marte Spotlight i trappolari il filo diretto con Gianni Di Marzio 08163636363 per intervenire in diretta con Gianni Di Marzio Gianni buongiorno di nuovo eccoci qua allora se vinciamo dico se vinciamo lo scudetto tutti con i capelli azzurri scrive quest'amico un altro amico Ramsey Rabiot McKennie Arthur allora Arthur ne avrà per 30 giorni ed è indisponibile Ramsey è indisponibile ci sono soltanto come abbiamo detto McKennie Rabiot e Locatelli nel centrocampo della Juventus questo è qua è già un centrocampo con Locatelli che fa il play McKennie è uno rapido e Rabiot è un bel cursore onestamente che è un buon giocatore il problema secondo me che siccome Quadrato arriva stasera insieme a Ospina quella non gioca non gioca non gioca Quadrato lo ha detto l'ha detto allora è tra bugia dove l'ha detto in conferenza stampa in conferenza stampa sì però ovviamente può anche cambiare idea ma io lo farei giocare metterei di scida al posto di Pellegrini dall'altra parte per cercare di marcare naturalmente Politano e metterei Quadrato a destra che ha insegnato se mi ha marcato bene Quadrato allora questi giocatori è bene che tu lo sappia Gianluca perché dovremmo spiegare in un minuto in 30 secondi guarda l'orologio per cortesire perché se no eccolo qua vai vai questi giocatori che vanno in Sud America a giocare anche se camminano aereo a Parigi viaggiano in business class i viaggi intercontinentali no ma viaggiare in business class tu le hai fatti i viaggi intercontinentali sì ma no no in business class mai allora io ho avuto la fortuna che riesco al calcio di andare e ora solamente con il covid non sono navro 15 20 viaggi intercontinentali l'aereo non si muove proprio tu puoi dormire puoi mangiare si fanno a tavola prendi tutto e di più sembra di stare con il tavolo sembra di stare a casa tua meglio perché mangi bene ti cucinano bene bevi lo champagne quindi si giocano di qua recuperano non è che viaggi in aereo che l'aereo balla e ti si muove quindi chi lo manda fa 7-8 ore sembra di ballare no non ti muovi proprio poi dormi ti stendi ci stanno i letti quindi recupero però un quadrato non è proprio partito per Napoli quindi i giocatori sudamericani sono animali chissà tenere una fama quando sono arrivati in Italia questi giocano da tutte le parti non è proprio partito per l'Italia è proprio rimasto in sudamerica quadrato capito Gianni quindi sicuramente non giocherà è rimasto in sudamerica non parlo più però io parlavo per concludere se no qualche nostro ascoltato come dire ma ma tu che stai dicendo io sono per esempio uno stuart ho viaggiato da tanti anni là il problema è anche il fuso orario stiamo attenti capito il fuso orario ti può fregare Claudio al telefono buongiorno 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 mister buongiorno amico mio eccomi e allora non ti pari a trappole come Gianluca no no diciamo una piccola trappola piccola piccola allora certamente Meret Goulam Dem lo botta a questo punto Mertens se per metà ottobre diciamo la maggioranza o quasi tutti rientrano è plausibile che il Napoli possa ambire almeno alla Champions League fare una bella figura in Europa League almeno questo grazie Claudio grazie ciao ciao io credo di sì però c'è da lottare onestamente perché a me non mi piacciono che leggo i titoli ci giornali degli ex calciatori degli allenatori che hanno fatto i ruffiani nei confronti dei tifosi in Napoli siamo pronti per lo Scudetto non è vero non siamo pronti per lo Scudetto abbiamo messo 500 mila euro ma anche per un milione andrà a prendere se l'ha preso il Leone in Napoli non è investito e non si è completato per puntare eventualmente allo Scudetto per migliorare la qualità detto questo consideriamo l'Inter è una scuola forte che ha vinto lo Scudetto e secondo me anche con la partenza di Luquavo si è rinforzata secondo il Milan è una squadra che ha fatto un progetto giovane con giocatori di esperienza e quindi si è da lottare anche con una squadra di questo tipo poi c'è la Lazio che pensa a Sarri che si è rinforzata anche la Lazio e aspettiamo che Sarri riesca a mettere in moto le sue idee che i giocatori le ha accenso poi signori me non ci dimentichiamo che in tutto quello c'è stato ma Roma a Roma e l'Atalanta Gianni però devo dire una cosa questa mattina Allegri ha detto il Napoli è una delle candidate a vincere lo Scudetto perché lo ha detto perché io ero a giocare a Napoli che devi dire ma perché secondo te quando io facevo l'allegra tu andavi a giocare che so a Genova contro Genova non dicevi Genova è una grande squadra e allora vedi che le trappole le hai sempre fatte e le fa pure Allegri ma tu eri mio maestro ma quale maestro Gianni allora anche Allegri è un trappolaro vogliamo chiederlo a Marco Venditti che è il curatore di Signora Mia da Torino Marco buon pomeriggio buon pomeriggio buon pomeriggio a voi ciao ragazzi dall'altro lato c'è Gianni Di Marzio che ti faccio salutare accidenti il maestro il maestro buongiorno buongiorno Gianni maestro sei tu io posso sei tu Gianluca Giffuri io ce l'ho da imparare va bene trappole anche in questo senso caro Marco ti abbiamo interpellato in un minuto insomma ci puoi dire alla fine Allegri dopo quello che ha detto oggi che formazione schiererà domani difesa a quattro molto probabilmente come dicevamo io Gianni più che la difesa a tre ma allora la situazione è più complessa del solito anche perché c'era la speranza di poter avere quadrado almeno ma purtroppo per un problema intestinale è rimasto giù in in Colombia quindi la situazione si aggrava una Juventus ridotta ai minimi termini una grossa occasione ovviamente per il Napoli poterla battere non lo diciamo non lo diciamo insomma ragazzi se non battete una Juventus ora c'è da preoccuparsi ma scusami scusa se leggiamo la formazione se ce la dai adesso la formazione però se è questa Cesni in porta De Sciglio Bonucci Chiellini Luca Pellegrini sì esatto fino adesso confermo McKennie Locatelli Rabiot nel Tridente in Mediana sì esatto esatto Bernardeschi Morata Kulusevski esatto fermiamoci qui è finita la squadra ho capito è mica una squadra malvagia no per carità ci mancherebbe altro però ragazzi insomma capisci da solo che il campo di Napoli è sempre ottico il Napoli è una squadra forte il chapeau tanto di cappello ti devi presentare con la migliore formazione indubbiamente questa non è una squadra ci mancherebbe altro è una seconda squadra però insomma mancano dei pezzi da 90 e di cui non insomma sarebbe il caso di poterle di soffrire ad esempio io parlo di un certo Federico Chiesa guarda caso insomma non so cosa mi rispondi tu insomma e allora Gianni hai sentito no io ho sentito ma sono convinto ma è una trappola da Torino dicono che il Napoli deve approfittarne è una trappola anche questa Gianni no ma sono convinto anche la formazione è una trappola perché secondo me gioca lui gioca a Kulukeski adesso a posto di Bernadiski e fa giocare a Keanu come lo vogliamo chiamare capito per cui un po' la manzo qui se vogliamo per me potrà fare anche così perché allegra intelligente in gamba io come allenatore lo stimolo molto moltissimo anche perché dalla panchina lui vede bene anche sui cambi è fuori discussione pertanto lui sa che gioca contro il Napoli che ha un tridente forte Politano e Insigni sugli esterni e Osimene che attacca e va a fare pressione centralmente sulla lunghezza e poi i tre centrocampisti del Napoli devo dire purtroppo sono molto offensivi tutti e tre nessuno rimane a guardia della linea difensiva e dei due centrali Manolast e Kulibari quindi lui cercherà con Morata di partire in controviene e con gli inserimenti di un dei centrocampisti in verticale tipo Locatelli e si fermerà a più quindi lui lo studia la partita potrei potrei fare una domanda al signor Di Marcio vai 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 Marco no intanto intanto io ho un ricordo bellissimo di lei perché è una persona dolcissima e sa molto bene il suo lavoro e quindi la stimo questo ci tenevo a dirlo pubblicamente poi le volevo chiedere lo chiedo proprio a lei perché lei è una persona competente se in questa fase particolare del campionato dove c'è molta incertezza dove ci sono questi famosi problemi ovviamente dei diciamo dei voli transoceanici di giocatori che lasciano le squadre ecco se secondo lei ci può essere un segnale che possa cambiare qualcosa perché io non credo insomma che una squadra debba essere privata parlo per la Juve parlo per il Napoli parlo per l'Inter per tutti quanti non credo che sia una cosa molto molto giusta ai fini delle società che pagano i giocatori se si affortunano eccetera io posso capire uno semifinale importante di qualificazione per un mondiale per un europeo ma non è possibile che per ogni piccolo amichevole questi ragazzi devono partire e poi ovviamente non essere a disposizione delle società perfetto vai Gianni perfettamente ragione io posso solo aggiungere che non sia mai poi capitano questi famosi infortuni ma in tutto questo si deve guardare i calendari a livello internazionale questa è una questione della FIFA che deve cercare di mettere riparo perché le società devono essere tutelate sappiamo però per certezza almeno per quanto riguarda me e i sudamericani che loro tengono più alle loro nazionali e non alle società che li pagano e laudamente e che ne pagano laudamente e allora noi dobbiamo salutare Marco Venditti Marco buon lavoro ovviamente buona partita domani tra Napoli e Juve io ti ringrazio ringrazio il maestro Di Nazio ciao a tutti Gianni noi siamo in chiusura dobbiamo mi devi dire solo un numero e un nome allora un amico ti chiede l'avresti fatto lo scambio Petagna Cutrone con l'Empoli sì o no no e invece vuole sapere questa amica hai parlato di fuorigioco Chiellini Bonucci quante volte manderanno in fuorigioco Osimena ci chiede Antonio dai un numero ma non dipende solo da loro due dipende anche dagli esterni dai due terzini che devono salire contemporaneamente hai capito quindi quante volte dieci volte dieci volte madonna mia dieci volte ma no per me quattro cinque volte riusciranno quattro cinque volte grazie a Gianni Di Marzio buona partita Gianni buona giornata grazie grazie a Gianni Di Marzio siamo in chiusura tra poco very good con noi per un grande pomeriggio qui su a Radio Marte siamo in chiusura grazie a Mario Palligiano no very good no no very good non c'è very good no very good volevo dire molto bene cioè very good non è il titolo della tradizione molto bene in inglese molto bene la musica di ieri contro la musica di oggi è uno spettacolo perché io sono sempre per la musica di ieri ovviamente vista l'età però insomma c'è anche per la musica di oggi e tra poco vi sfiderete in questo simpatico e meraviglioso pomeriggio grazie a Gigi Soriani e Mario Palligiano in regia voi per la cortesia attenzione da Gianluca Gifuni è tutto ci sentiamo stasera per le ultimissime anche con la conferenza di Spalletti che parla tra poco alla vigilia di Napoli Juventus e come sempre con simpatia buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti